Lettura del Vangelo secondo Luca In quel tempo il Signore Gesù disse ancora Un uomo aveva due figli Il più giovane dei due disse al padre Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta Ed egli divise tra loro le sue sostanze Pochi giorni dopo il figlio più giovane Raccolte tutte le sue cose Partì per un paese lontano E là sperperò il suo patrimonio Vivendo in modo dissoluto Quando ebbe speso tutto Sopraggiunse in quel paese una grande carestia Ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno Allora andò a mettersi al servizio Di uno degli abitanti di quella regione Che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci Avrebbe voluto saziarsi con le carrube Di cui si nutrivano i porci Ma nessuno gli dava nulla Allora ritornò in se stesso e disse Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza E io qui muoio di fame Mi alzerò Andrò da mio padre e gli dirò Padre ho peccato verso il cielo davanti a te Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio Trattami come uno dei tuoi salariati Poi si alzò e tornò da suo padre Quando era ancora lontano suo padre lo vide Ebbe compassione Gli corse incontro Gli si gettò al collo e lo baciò Il figlio gli disse Il figlio gli disse padre ho peccato verso il cielo davanti a te Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio Ma il padre disse ai servi Presto portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi Prendete il vitello grasso Ammazzatelo Mangiamo e facciamo festa Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita Era perduto ed è stato ritrovato E cominciarono a far festa Il figlio maggiore si trovava nei campi A ritorno quando fu vicino a casa Odì la musica e le danze Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo Quello gli rispose Tuo fratello è qui E tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso Perché lo ha riavuto sano e salvo Egli si indignò e non voleva entrare Suo padre allora uscì a supplicarlo Ma egli rispose a suo padre Ecco io ti servo da tanti anni Non ho mai disobbedito a un tuo comando E tu non mi hai mai dato un capretto Per far festa con i miei amici Ma ora che è tornato questo tuo figlio Il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute Per lui hai ammazzato il vitello grasso Gli rispose il padre Figlio tu sei sempre con me E tutto ciò che è mio è tuo Ma bisognava far festa e rallegrarsi Perché questo tuo fratello era morto Ed è tornato in vita Era perduto Ed è stato ritrovato Facevene amici e ben ritrovati In questa ultima domenica dopo l'Epifania Secondo il rito ambrosiano La parabola che abbiamo appena letto È quella della misericordia Del padre misericordioso O del figlio al prodigo E in questa parabola ci possiamo specchiare dentro Tutti quanti Nella figura E del figlio minore Che chiede parte della sua eredità O meglio la sua eredità Metà dei beni che possiede il padre Se ne va a sperperarli con le prostitute A gotovigliare con i suoi amici E ci possiamo anche ritrovare Nella figura nei panni Del figlio maggiore Che è rimasto sempre nella casa del padre Però non da figlio Ma da schiavo, da servo Che rimprovera al padre Di non aver permesso a lui Di far festa con i suoi amici E il padre risponde Figlio tutto quello che è mio è tuo Sei stato qui fino adesso con me E non hai capito questa realtà E il figlio minore pentitosi Non perché aveva trascurato le relazioni Il rapporto col padre Aveva misconosciuto il suo affetto La sua comprensione La sua misericordia Ma si è pentito perché nella casa del padre I servi avevano da mangiare E lui stava morendo di fame E il padre si presenta con dignità Da signore nei confronti dell'uno e dell'altro E al primo, a quello che ritorna sui suoi passi Di corre incontro Non vale più nemmeno sapere Neppure sapere il motivo La motivazione di questo suo ritorno Ma gli getta le braccia al collo Lo accoglie Si commuove Fa festa Uccido il vitello più grasso Le mette l'anello al dito I calzari al piedi Che sono segni di libertà Di libertà Il figlio si è allontanato Perché si sentiva stretto dentro Tra le mura della casa paterna Invece si accorge che fuori Deve portare il pesante fardello Della schiavitù Ed era più libero nella casa del padre E torna indietro perché è affamato E il figlio maggiore invece Non si accorge neppure di questa libertà goduta E vissuta nella casa paterna Si sente schiavo Si sente servo Si sente che deve Chiedere il permesso a suo padre Per far festa con gli amici E non vuole saperne di entrare Ecco penso che Queste due figure Del figlio maggiore Del figlio minore Siano adatte Perché anche noi Molte volte Ci ritroviamo a ragionare Ci ritroviamo nei panni O del primo figlio O del secondo figlio Viviamo da schiavi Da persone non libere La relazione con Dio padre Che è misericordioso Questo Dio padre Che si presenta tale Così ce l'ha comunicato il figlio Che è sì Dio padre Ma il termine padre Forse un po' Così restrittivo Nella figura Nella comprensione Del nostro Dio Perché è vero che padre Gesù ce l'ha rivelato come tale Ma è altrettanto vero Che questo padre Ha creato l'universo E si abbassa Si presenta Con la sua misericordia E il suo perdono Ma Dio padre Ha creato l'universo Allora per avere Una comprensione più esatta Anche se elementata Molto parziale di Dio Dobbiamo Da una parte Leggere E rileggere il Vangelo Perché nel volto E nella vicenda Nella persona di Gesù Troviamo il nostro Dio Ma dall'altra parte Dobbiamo alzare lo sguardo E dirci E ripeterci Questo Dio padre Ha creato l'universo Quindi il gesto di salvezza E l'umiliazione Dall'incarnazione Tramite il figlio È un gesto Che è intriso di amore Di un amore immenso Tanto quanto è immenso Infinito l'universo Pace bene amici A risentirci Alla prossima domenica Pace bene amici